Parte prudente per Kingsgriff l'errore di Nespolita, velocissimo dall'esterno è Orion NP che cerca di sfondare su Pariroc, arriva la curva ma l'allievo di Nando Pisacane passa al comando, quindi Orion NP nonostante il 6 va al comando davanti a Pariroc, poi vediamo Marco Stefani in terza posizione con Love Inside, intanto avanza a largo Pandas di Masval che trova il disco verde, quindi Pandas di Masval al comando dopo 400 metri in 29.6 davanti a Orion NP che preferisce correre sotto, a sua volta precede Pariroc, poi Love Inside ormai è una fila indiana, l'unico che prova a mettere la testa di fuori è Perkins Griff in questo momento sesto all'accordo, intanto i 600 in 45 scarsi, passaggio davanti alle tribune, tenta di ridurre leggermente il ritmo Enrico Bellei ma non più di tanto, ora Perkins Griff avanza in maniera più decisa, giro in un minuto scarso, Perkins Griff arriva ai fianchi di Orion NP, prende la via del largo anche Love Inside in anticipo su Orchidea di WS, ora Pandas di Masval dovrà rispingere l'attacco portato da Perkins Griff, il chilometro viene passato in 1.14.7, 14.8 la curva, ora Perkins Griff prende sotto tiro la femmina, poi vediamo ancora Orion NP, ma Perkins Griff mette mezzo cavallo di davanti e sembra già sul punto di passare a 400 metri dalla conclusione, dopo la frazione delle scuderie passate in 14.5, prende largo Perkins Griff e si distende sull'ultima curva, cerca di avanzare anche Love Inside, poi anche il numero 7 di Orchidea di WS, ma ormai Perkins Griff a buon margine, curva passata in 14.7, retta d'arrivo per Perkins Griff che si distende, la lotta è solo per le piazze, prova a largo di tutti Orchidea di WS, Perkins Griff viene a dominare questa ultima corsa, e vince benissimo nei confronti di Patroco FKS che fa il secondo probabilmente ancora su Pandassa di Masval. Bella vittoria direi per Entoria, 1.13.5 la media al chilometro dell'allievo di Walter Zanetti guidato da Andrea Farolfi che viene a vincere alla grande, alla quota di 2.13 questa ultima di Bologna. Quindi finiamo con la vittoria in bello stile da parte del figlio di Classic Photo. È tutto per questa giornata all'arcoveggio, ricordiamo che il prossimo appuntamento è per lunedì 2 giugno con il Gran Premio della Repubblica. Grazie.